Le emozioni sono ancora tutte con te, ma puoi già iniziare a riviverle. Gioca d'anticipo! Acquista subito il tuo posto agli Internazionali BNL d'Italia 2013. È il torneo con tutte le stelle del tennis e l'unico con la magia del Foritalico. Non rischiare di perderti lo spettacolo. Internazionali BNL d'Italia. Esserci è già un grande evento.